Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria per un video un pochino più serio del solito. Come ben sapete, oramai sono più di tre anni che ho aperto questo canale, sono più di tre anni che parliamo essenzialmente di fatti inerenti alla seconda guerra mondiale. A volte parlo di heavy metal, ancora più raramente parlo di attualità e diciamo che faccio questo video breve e sintetico per ricordare un evento tragico della nostra storia recente. 12 novembre 2003, 17 anni fa, l'attentato, la strage di Nassiria. Un camion bomba che cerca nella, insomma, che cerca di forzare il posto di blocco alla nostra base, la base italiana nella città irachena di Nassiria. Il camion esplode e fa 25 morti tra il personale della base e due civili presenti in quel momento nella base. Premesso una cosa, noi in Iraq non ci dovevamo essere. Se c'era una cosa che non dovevamo assolutamente fare era partecipare a quella insensata e sciagurata operazione che fu la seconda guerra del Golfo. Se vi ricordate l'opinione pubblica italiana era fortemente contraria alla partecipazione italiana alla guerra in Iraq, ma motivi di opportunità politica, motivi di, come dire, realpolitik, imposero l'invio in Iraq delle nostre truppe. E il 12 novembre del 2003 il pantano in cui eravamo andati a cacciarci si rivelò in tutta la sua atroce e terrificante brutalità. Un camion bomba cerca di forzare l'ingresso della base. Il mitragliere all'ingresso con una MG 4259 riesce ad uccidere i due conducenti, ma ahimè, le tonnellate di tritolo presenti a bordo di quel bestione esplodono. La base viene travolta, esplode persino il deposito di munizioni della base. Ripeto, non dovevamo essere lì, non dovevamo andare ad invischiarci nel pantano iracheno. Ma ahimè, che vi posso dire? Siamo andati a tuffarci, insomma, ci siamo andati a tuffare in quella situazione in maniera piuttosto maldestra e avventata per dare retta alle fregole americane e abbiamo visto. E i risultati sono stati, se vogliamo, proprio i 25 morti di quella terrificante strage. Mi sono letto nel corso degli anni alcuni resoconti su quello che accadde quel giorno e devo dire la verità, se solo la metà di quello che ho letto sull'accaduto è vera, tanti alti ufficiali del nostro esercito andavano degradati seduta stante e veramente spediti a pedate in galera. Perché essenzialmente, ripeto, ripeto, io parlo in base ai resoconti che ho letto e non ho motivo per ritenerli, cioè insomma come dire, facendo la dovuta tara, diamone per buona una metà delle cose che ho letto, delle bestialità che mi è toccato leggere sull'argomento. Ma ripeto, la scelta sbagliata di quel posto per installare la base italiana, più sbagliata di così non si poteva, una strada centrale che era impossibile chiudere, nella quale era impossibile installare i blocchi a zigzag per rallentare eventuali camion suicidi, eventuali mezzi, eventuali attacchi come quello che poi ci è costato 25 morti. Gli americani sistemavano le loro basi in periferia, in zone facilmente isolabili, in zone di facile protezione, in zone dove era possibile installare nelle strade i blocchi stradali a zigzag che impedivano ai mezzi, a eventuali mezzi di kamikaze di arrivare troppo veloci, come accade con il camion bomba che travolse la nostra base. avrebbero dovuto mettere New Jersey in plastica riempiti di acqua e non di ghiaia, perché molte delle vittime di Nasseria sono state causate dalla ghiaia e dal pietrisco messe nei New Jersey in plastica che formavano la barriera. Oppure ci si poteva mettere direttamente i New Jersey in cemento. Anche questo mi è toccato. Se questa cosa è vera, ho letto in più resoconti questa cosa di New Jersey in plastica riempiti di ghiaia e pietrisco, che al momento dell'esplosione di quei quintali di esplosivo si sono trasformati in autentici proiettili che hanno travolto e ucciso tutto quello che si trovavano attorno. Ecco. Altra cosa. Mettere all'ingresso della base come protezione, come sorveglianza, che cosa? Una singola MG 4259. L'MG 4259 ci ho sparato anche io, ai tempi. Ok? E' un'ottima arma. Il proiettile che spara è un'ottima munizione. Il 7,62x51 nato è un'eccellente munizione. Il calibro 7,62x51 è un'eccellente munizione, ma diciamoci la verità, per fermare un autobotte, un autoarticolato, un autobotte, ce ne vuole veramente di energia cinetica per fermarla. Possibile che nessuno tra i nostri alti comandi abbia pensato di mettere a fianco dell'MG 42 una bella Browning M2 calibro 50, di mettere davanti alla base, non lo so, un'autoblinda con un cannone, con un cannone da... bastava un cannone automatico da 20 mm e una mitragliatrice M2 calibro 50, che avrebbero potuto fermare prima il camion. Del resto, come dire, la M2 era stata studiata come arma sostitutiva dei fucili anticarro. La 12-7 è un'ottima arma antimateriale. È possibile che nessuno negli alti comandi del nostro esercito abbia pensato di fermare eventuali camion bomba, piazzando davanti all'ingresso della base, anche una singola M2. No. Solo una normale, tra virgolette, MG 42-59, che si riuscì ad uccidere i due conducenti del camion, ma non riuscì fisicamente a fermare il camion. Perché un camion tu non lo fermi con un MG 42-59. Ci voleva qualche cosa di più pesante. Le falle nella sicurezza della nostra base erano palesi ed evidenti. Le responsabilità, le responsabilità di chi volle fare la base lì e di come fu allestita, sono responsabilità gravissime. Che vi posso dire? Ripeto, non dovevamo essere lì. Abbiamo perso 25 uomini tra civili e militari. Un tributo di sangue immane e spaventoso. La più grave perdita di vite umane subita dalle nostre forze armate in un teatro di guerra dopo la fine della seconda guerra mondiale. La perdita dell'innocenza, se vogliamo, per il nostro paese durante le missioni di pace. Una strage terribile che poteva essere evitata. Ripeto, non dovevamo essere lì. Non dovevamo mettere piedi in Iraq. E non si tratta di pacifismo spicciolo, ma proprio si tratta di un minimo di rispetto. Cioè la nazione, a parte i soliti fanatici, l'Italia era fortemente contraria all'intervento in Iraq all'epoca. Ma non vollero dare retta alle persone di destra e di sinistra che non volevano che l'Italia si impantanasse nel disastro iracheno voluto dagli Stati Uniti. Ma non ci fu niente da fare. La realpolitik, le opportunità politiche, il servilismo tipico di certi politicanti italiani. I morti di Nasseria sono sulla coscienza di chi ce li ha mandati lì. I morti di Nasseria sono sulla coscienza di chi ha organizzato la base a quella maniera. I morti di Nasseria sono sulla coscienza di chi non ha badato alle più elementari norme di sicurezza. Più ancora che dei terroristi, più ancora dei guerriglieri iracheni che, tra virgolette, facevano il loro mestiere, se vogliamo. La responsabilità di quei morti è di chi ha organizzato male quella base. I nostri militari non dovevano essere lì. I nostri militari avrebbero dovuto essere sistemati in una base organizzata diversamente. I nostri militari avrebbero dovuto essere protetti da un mezzo più pesante, insomma un accidente di autoblindo, un accidente di M2. Io sono soltanto un povero idiota con la terza media che si indigna per certe miserabili polemiche. Ah, dimentichiamo una cosa. Io personalmente, per quel poco che vale, sono al fianco dei familiari delle vittime di Nasseria perché ritengo sia giusto e doveroso che venga loro data la medaglia d'oro al valore militare, alla memoria. Perché hanno perso la vita per l'Italia perché sono morti in guerra. Non stiamo lì a surlare nel manico con sottili cavilli legali, ah ma perché era un'emissione di pace. No. Quegli uomini sono morti in guerra. Quegli uomini sono morti al servizio della nostra patria. Quegli uomini sono morti al servizio della nostra bandiera. Sono morti al servizio dell'Italia. Quegli uomini meritano la medaglia d'oro al valore militare. Poco ma sicuro. E la meritano molto di più, siamo sinceri, di altri personaggi che vengono tanto decantati per il loro coraggio, per il loro onore di italiani. I morti di Nasseria, ripeto, sono morti per fare il loro dovere, sono morti per il nostro paese. Sono morti nella maniera sbagliata, probabilmente. Sono morti per una guerra inutile, sicuramente. Sono morti perché non dovevano essere lì. Ma queste sono questioni di lana caprina. Sono morte delle persone che indossavano la divisa delle nostre forze armate. Sono morte delle persone che avevano scelto di servire il nostro paese. Il resto diciamo che conta poco niente. E per quanto riguarda le polemiche a destra e sinistra, 10-100 mila Nasseria se ne andassero tutti quanti a fanculo. 1. A costo di farmi demonetizzare il video. Mi viene anche da ridere. Me lo possono pure demonetizzare questo video per le parolacce che dicono i confronti di certa gente che se ne merita. Ma ancora di più a fanculo, cioè rispetto a quelli che urlavano 10-100 mila Nasseria e che se ne devono andare a fanculo, ancora più a fanculo se ne devono andare gli sciacalli, gli ipocriti e le teste di minchia che si riempiono la bocca di frasi come onore, gloria, benedetti i soldati d'Italia, sia benedetto il loro ricordo e poi che cosa fanno? Tacciono quando viene chiesto loro, nella loro veste di politici, di concedere ai caduti di Nasseria la medaglia d'oro al valor militare. Insomma signori, credo che basti così. 12 novembre 2020, 17esimo anniversario della strage di Nasseria. Per quel poco che vale la mia solidarietà ai membri delle famiglie, ai parenti delle vittime, per quel poco che vale il mio omaggio ai caduti, il mio ricordo a coloro che hanno versato il sangue, il loro sangue in nome dell'Italia, ma purtroppo non hanno versato per niente. Tutto qua. Spero che capirete il senso di quel video, se lo capite il senso di questo video. Se lo capite bene, se non lo capite, fate una bella cosa. Fate un giro di 360 gradi e partite per andarvene a fanculo. Grazie.